Ehi ragazzi, i curiosi, contenti, si vede una figura autoritaria, per apprendere, per imparare, per crescere, per sviluppare un pensiero critico, e ancora non l'ho trovato, comprensivo, bravo a spiegare, tuo amico, perché è una lingua molto bella, molto parlata al mondo, e anche molto simile all'italiano, perché il francese era troppo difficile, presenza, si evidenzia per lavorarlo, si legge due volte e poi si cancella, Perché credo che le lingue sono molto belle e ci arricchiscono Perché al giorno d'oggi senza lingue non vado a nessuna parte Fare crescere i ragazzi e prepararli per il mondo del domani Creare delle persone di spessore che fuori da qua sappiano stare al mondo Perché mi piace essere tra i giovani La grande vorrei fare o il medico in emergenza o l'infermiere Sa dire un desiderio Andare in Argentina Andare in Spagna Sport, viaggi Guardare film, fare musica e studiare quello che mi piace E l'assado, la grigliata Indeciso fra sushi e pizza Difficile, c'è che vara Napoleone Un po' meno burocrazia e più contatto con i ragazzi Libro Norwegian Wood di Murakami Interstellar come film Canzone Figli delle stelle Qui suena le campane di Hemingway Un film underground di Emir Costurica del 95 e della Jugoslavia Una canzone Sono tanti Tres piccoli uccelli Espero che salga bene il video Muy bonita la scuola Grazie 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 Grazie